L'assenza fuori da scuola della giovane madre, che avrebbe dovuto riprendere la figlioletta, aveva fatto pensare al peggio ed in effetti così è stato. La donna, irrintracciabile anche sul telefonino, è stata ritrovata morta poi, impiccata davanti la porta d'ingresso di un alloggio del progetto case a Sant'Antonio. Aveva 40 anni ed era di nazionalità polacca. Il corpo senza vita è stato trovato nel tardo pomeriggio dagli agenti della squadra mobile, diretti dal dirigente Tommaso Niglio, allertati dalla scuola della bambina. La donna viveva nell'appartamento del piano case con la figlia ancora minorenne. Sono in corso le indagini ma al momento gli inquirenti non hanno trovato biglietti a spiegare il motivo del gesto. Indaga la procura con il PM Stefano Gallo che ha disposto l'autopsia ma non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio. La bambina è stata affidata per ora ad una comunità. La donna era separata dal marito.